Uno sciopero generale, quello organizzato dall'Unione Sindacale di base sul precariato, ma anche e soprattutto di avversione alle leggi economiche sul lavoro dell'attuale governo. Francesco Marchese. Siamo in piazza davanti alla prefettura di Taranto in occasione dello sciopero generale proclamato dall'Unione Sindacale di base per ridare il giusto protagonismo ai lavoratori e alle lavoratrici di questo Paese per rimettere al centro del dibattito le rivendicazioni sui temi del salario, dei diritti, della sicurezza dei luoghi di lavoro, dello Stato sociale, il rilancio dello Stato sociale e la sua funzione contro le scelte di questo governo che invece opera sistematicamente per aumentare le disuguaglianze, per tagliare la spesa sociale e favorire invece gli investimenti in armamenti e finanziare i teatri di guerra. Un governo che conduce una vera e propria guerra contro i lavoratori e le lavoratrici, contro i precari, contro i disoccupati, contro tutti gli sfruttati alle fasce più deboli. Qui ci sono i lavoratori che ormai non arrivano più alla fine del mese, che hanno visto perdere il potere d'acquisto dei loro salari e quindi con quel salario non sanno se fare la spesa, mangiare oppure pagare le bollette. Ci sono i lavoratori poveri che guadagnano, che hanno salari ben al di sotto dei 7 euro l'ora, a frutto della politica di moderazione salariale praticata dai sindacati concertativi nel corso di questi 30 anni. E quindi attacchi anche alla politica degli altri sindacati, naturalmente sullo sfondo le problematiche del lavoro che riguardano proprio la nostra area. Ancora Marchese. Noi di fronte a questo chiediamo 300 euro netti, subito, in busta paga per tutti i lavoratori e le lavoratrici, chiediamo l'introduzione di una legge sul salario minimo di 10 euro all'ora, chiediamo l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, chiediamo un meccanismo di recupero del salario rispetto all'inflazione reale, quella che un tempo era la scala mobile, chiediamo pensioni minime a 1000 euro, chiediamo la cancellazione delle controriforme fatte in questi anni, chiediamo il rilancio del pubblico attraverso assunzioni stabili, scorrimento delle graduatorie, assunzioni del precariato, della pubblica amministrazione.